Sia lode e gloria a te, Signore mio Dio. Carissimi fratelli, vi volevo avvertire che questo venerdì 8 novembre, alle ore 21, faremo un potentissimo rosario sul preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo e alle 21 e 30 seguirà una crociata di guarigione e di liberazione, anch'essa molto potente, dove declameremo delle preghiere con la potenza del sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Le preghiere sono tutte tratte dalla Bibbia. Vi prego, cari fratelli, di fare uno sforzo e di venire puntuali a questo appuntamento di preghiera in modo che possiamo pregare insieme, tutti insieme, alla stessa ora, nello stesso momento per dare più potenza a questa preghiera. Vi aspetto numerosi che il Signore ci benedica e ci liberi da ogni male nel nome potente e glorioso di Gesù. Amen. La scorsa settimana vi avevo promesso che avrei fatto la seconda parte della crociata dedicata ai sogni, ma siccome ci sono molti di noi che hanno dei grossi problemi di salute e di varie dipendenze dal peccato, ecco perché è importantissima questa crociata di preghiera per poterci così liberare da ogni malattia, da ogni avversità, da ogni difficoltà, da ogni male attraverso la potenza del sangue preziosissimo di Gesù Cristo. Sono preghiere che la maggior parte di voi non ha mai fatto perché queste preghiere sono delle preghiere che sono state dettate da nostro Signore Gesù Cristo a qualche eveggente. vi aspetto dunque numerosi. Lodi a te Signore. Amen.